Avete un visore MetaQuest o state pensando di comprarne uno? Bene, sentite qui. Questo non è un video sponsorizzato, metto in palio tre giochi per MetaQuest di Tascamia. E ora vi spiego come. Se non hai già un visore della famiglia MetaQuest e vuoi comprarlo su Amazon, utilizza i miei link che trovi nella descrizione di questo video oppure nel primo commento. E poi mandami subito un messaggio privato su Messenger tramite la pagina de Il Gretta Pensiero. Se invece hai già un MetaQuest ma vuoi comunque partecipare al concorso, niente di più facile. Usa comunque il link alla mia pagina Amazon per fare un acquisto di qualunque tipo, basta che sia di un valore equivalente a MetaQuest, quindi circa 330€. Una console, una televisione, uno smartphone, una lavatrice, non importa cosa. L'importante è che più o meno il prezzo sia quello. Dopo averlo fatto, contattami sempre sulla pagina Facebook de Il Gretta Pensiero tramite Messenger. Come spiegavo poco fa, comprare tramite i link Amazon a voi non costa un centesimo in più. L'unica differenza è che Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale, davvero piccola, sugli acquisti che voi fate tramite i miei link. E Amazon a rimetterci, non voi. Tra tutti quelli che avranno fatto un acquisto tramite i miei link, estrarrò tre persone. Che potranno chiedermi, un gioco a testa, naturalmente, da tutto il catalogo MetaQuest Store, quindi non PC VR, un gioco a vostra scelta, per me non importanza il prezzo. Il concorso è valido fino al 31 gennaio, quindi probabilmente l'estrazione sarà a fine febbraio, i primi di marzo. Non ho ancora deciso esattamente come avverrà il sorteggio, accetto consigli da parte dei partecipanti. Credo che probabilmente faremo una videochiamata tutti assieme, in modo che comunque possiate vedere in modo trasparente, che non favorisco una persona piuttosto di un'altra, a me non interessa. E comunque a voi usare il link non costa nulla, come dicevo, quindi perché non provare a vincere un gioco gratis? Vi ricordo che è importantissimo che quando fate l'acquisto mi contattiate tramite Messenger su Facebook, perché naturalmente quando voi comprate qualcosa tramite i miei link Amazon, io so che qualcuno ha comprato, ma non so chi è stato per una questione di privacy. Quindi mi contatterete, mi scriverete Ciao, sono Pietro, ho comprato un Xbox, un MetaQuest, una lavatrice, una TV, quello che volete, e l'ho comprata il giorno tale. Io inserirò il vostro contatto nella lista dei partecipanti e ci teremo in contatto magari tramite mail per comunicarvi quando ci saranno le estrazioni, in modo che possiate essere presenti. Se avete domande più specifiche riguardo a questa cosa, scrivetemela pure nei commenti. Partecipate numerosi, questo è tutto, in bocca al lupo! Grazie a tutti!